Sono stati numerosi gli studenti sia italiani che stranieri iscritti ai corsi di laurea Unicam che hanno partecipato anche al secondo appuntamento con il seminario Conosci te stesso Scopri il tuo stile di apprendimento promosso dal servizio tutorato di Ateneo Relatrici le dottorande Unicam Gabriella Giulia Pulcini e Daniela Mendola che ha presentato la piattaforma del corso che sarà poi possibile seguire online Ancora una volta dunque il servizio tutorato propone agli studenti iniziative e percorsi utili a sostenere lo studente durante il suo corso di studi al fine di rimuovere ostacoli alla formazione e permettere una più ampia partecipazione alle attività Unicam Prossimi appuntamenti con i corsi intensivi di tutorato didattico per la matematica, la fisica e la chimica Maggiori informazioni sono disponibili sul sito tutorato.unicam.it